Attivare in dieci giorni altri 150 posti letto di terapia intensiva in Toscana. Lo consentirà la riapertura di alcuni reparti negli ospedali dismessi o parzialmente in disuso come quelli di Lucca, di Massa, di Carrara e del vecchio ospedale Santa Chiara di Pisa. Lo ha annunciato il presidente della regione toscana Enrico Rossi nell'ambito della riorganizzazione delle strutture del servizio sanitario regionale per fronteggiare l'epidemia di coronavirus Covid-19. Rossi ha spiegato che gli ulteriori 150 posti letto di terapia intensiva si aggiungono ai 447 già in funzione. La regione ha inoltre richiesto alla protezione civile nazionale e altri 300 ventilatori polmonari. Il presidente della regione toscana ha firmato anche una nuova ordinanza, la numero 12, che dispone alla chiusura temporanea dal 16 marzo al 3 aprile delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili, i cosiddetti centri diurni, e l'istituzione di una commissione di esperti per definire le linee guida dei percorsi di cura dei pazienti affetti da Covid-19. La chiusura temporanea dei centri diurni, disposta dopo un confronto con i gestori e i sindacati, risponde alla necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria per contenere e mitigare l'espansione della malattia infettiva, soprattutto fra le persone più fragili, gli anziani e disabili. Grazie a tutti.